64. Frodi ripetute Cenacolo Umanità in Movimento Apporto ricevuto da Luciana L. dopo il trapianto di un rene Finora chi scrive ha frequentato tre medianità ad effetti fisici Presso Umanità in Movimento non ha mai scoperto frodi Mentre nelle altre due medianità non conosciute Oltre a fenomeni fisici genuini Ha scoperto frodi ripetute